Il numero dei decessi totali salgono a 114, ad annunciarlo il bollettino del gruppo operativo regionale emergenze sanitarie delle Marche. Nella giornata odierna i decessi risultano 23, tra cui 4 erano residenti a Vallefoglia, un 88enne di Acqualagna, 82enne di Gabicce Mare, una 91enne di Monte Labate, un 86enne di Petriano, 6 di Pesaro e un 58enne di Tavuglia. A Fano invece si sono registrati due decessi, una 63enne con tumore polmonare metastatico e una 61enne con sindrome di Down. Tutti avevano patologie pregresse. I test effettuati risultano 4.109, i casi positivi 1.567, di cui in provincia di Pesaro e Urbino 910 casi. I ricoveri in terapia intensiva sono 119, 32 a Marche Nord, 29 al Torrette di Ancone e 5 a Urbino, mentre i ricoveri in semi-intensiva sono 145. I ricoveri non intensivi sono 435, i casi domiciliari 4.408, di cui nella provincia di Pesaro gli asintomatici 1.601 e sintomatici 371. I ricoveri in degenze post-critiche salgono a 58 casi rispetto ai 29 di ieri, i dimessi invece sono 39 nelle Marche.